ciao a tutti allora spero di farvi cosa gradita nel farvi vedere un sito su cui io acquisto spesso materie prime o prodotti per la per preparare creme sieri insomma una serie di cose il sito è flower tales.com ed è un sito che io utilizzo molto spesso è un sito ben strutturato premetto che questo non è un video sponsorizzato flower tales non mi paga non mi manda niente gratis semplicemente volevo farvi vedere questo sito perché per soprattutto per i principianti è un sito molto importante molto interessante il sito è flower tales.com cosmetica naturale fai da te ed è ben strutturato è ben strutturato perché vi con menu e sottomenu vi specifica tutti i prodotti cosa sono come vanno utilizzati cosa non dovete usare in combinazione per non creare dei problemi insomma è strutturato abbastanza bene adesso vi faccio un po vedere le cose più essenziali del sito e vi parlo un po anche dei prodotti che io normalmente utilizzo allora per esempio a sinistra ci sono tutti i menu faccio l'ingrandimento così lo vedete meglio ci sono tutti i menu e sottomenu per esempio kit ricette oli vegetali burri vegetali esteri ed oli secchi e così via emulsionanti fattori di consistenza tutti quei prodotti anche che servono per fare spignatto quindi per crearvi le vostre creme i costrisieri e quant'altro per quanto riguarda questo argomento però vi dico ragazzi molta attenzione se non sapete spignattare quindi se non avete mai fatto spignatto partite da cose semplici quindi non avventuratevi in cose troppo complicate perché rischiate di creare qualche problema per esempio kit ricette apre il sito e vediamo che qui c'è maschera botox peel off ai polifenoli di akai ed è un kit per preparare delle maschere nello specifico 5 maschere prezzo 24 euro e 90 quindi viene a costare circa 5 euro a maschera ma ovviamente avete delle maschere fatte da voi con prodotti con ingredienti validi per esempio questa effetto botox riempitivo immediato trattamento per 5 settimane quindi una maschera a settimana elasticizzante tonificante idratante e così via contiene il kit maschera botox ai polifenoli contiene lo shopper in carta da fonti rinnovabili riciclati e quant'altro 150 grammi di base maschera peel off agli alginati quindi gli alginati sono quelli che usa il dentista per prendervi la forma sono quelle cose che diventano sostanzialmente un po gommosa che quando si asciuga potete andare a fare l'effetto peel off della maschera 500 grammi di idrolato attivo di teglio che è quello che vi serve per mischiare la maschera 10 grammi di estratto di acai che aggiungerete nelle maschere e 10 ml di eps 3 che sono sarà un conservante o qualcosa del genere accessori e misurini guida completa la realizzazione quindi avete tutto ben specificato e spiegato e questo sito io lo adoro anche per questo poi ci sono il kit per crema ringiovanente il kit per crema corpo idratante quello per la maschera tonificante e purificante questa in bello vedetevi c'è il disegnino della maschera quindi questa in bello quindi c'è la maschera in bello non non piena quindi non imbibita la dovete imbibire di maschera per potervela mettere sulla faccia poi per esempio ci sono gli oli vegetali questo sito è pieno di oli ragazzi cioè ci sono più oli qua che in qualsiasi altro sito dove io ho acquistato finora gli oli qui c'è la differenza tra olio quindi olio di canapa olio del bicocca olio di lino di cocco spremuti a freddo da fonti sicure bio quindi senza senza che la pianta sia trattata e quindi avete la sicurezza di un prodotto comunque puro non trattato e poi ci sono gli oli oliti cos'è la differenza tra olio e olio olito forse non ve l'ho mai spiegato l'olio è quindi il frutto di una spremitura a freddo di del cocco del lino dell'albicocca e quant'altro l'olio olito invece è composto da un olio base che di solito è olio di riso olio di mais olio di semi qualsiasi olio un olio base in cui vengono lasciati a macerare i fiori o le foglie per esempio della salvia o dell'iperico è un prodotto più prezioso infatti hanno un costo anche abbastanza elevato è un prodotto più prezioso perché perché questa preparazione richiede un lungo tempo perché questi fiori foglie e quant'altro vengono lasciati a macerare molto tempo in quest'olio base così da tirare fuori tutta tutte le proprietà della pianta che viene immersa in olio per essere per esempio il estratto di salvia è ottenuto unicamente dalle foglie si utilizza a scopo cosmetico soprattutto per le sue proprietà cicatrizzanti vi spiega tutto vi dà le indicazioni di uso tipo di pelle a cui indicato l'applicazione le sinergie l'origine e sinergie cosa sono per esempio con l'olio essenziale di salvia con l'olio di ginseng vanno a creare per esempio a potenziare l'effetto di questo olio di to o questo olio di to va a potenziare l'effetto di questi prodotti qua c'è la composizione quindi linci le controindicazioni perché vi dice anche quando non lo dovete usare e poi vi spiega tutto io adoro flower tails perché soprattutto precisissimo abbiamo i burri vegetali per esempio i burri vegetali si possono utilizzare puri o si possono utilizzare per fare altre cose quindi per per esempio il burro di cacao viene utilizzato disciolto come fase grasse in alcune creme il burro di karité il burro di mango vengono tutti utilizzati per le loro proprietà poi abbiamo gli emulsionanti i fattori di consistenza questi non ve ne parlo perché servono per creare creme sieri e quant'altro è uno step in più che io non vi consiglio di fare se non sapete spignattare perché misurare il ph insomma è una cosa un po più complicata poi abbiamo gli attivi ecco degli attivi possiamo parlare gli attivi sono quelli che possono essere inseriti in una crema base quindi in una crema che voi già avete una crema che comprate perché flower tails anche le creme base per esempio il le ceramidi vegetali il le cellule staminali vegetali attive gli posoni il la bava di lumaca vegetale quindi questa è prodotta e non estratta da animali quindi può essere utilizzata anche da vegani sostituto non animale di bava di lumaca con glicoproteine con l'agene vegetale e quindi vi spiega come utilizzarla quando utilizzarla dove metterla per il viso per il corpo per tutto insomma vi spiega molto bene come potete utilizzarla quindi gli attivi potete utilizzarli oppure oppure metterli nelle non tutti potete utilizzarli puri ecco alcuni potete utilizzarli puri altri dovete aggiungere a creme che già avete o le creme base per esempio il gel di aloe vera è già pronto lo potete utilizzare di un attivo ed è puro lo potete utilizzare tranquillamente per esempio un'altra cosa che potete utilizzare il bisabololo per esempio questo è l'acido ialuronico in polvere questo è l'acido ialuronico in polvere questo potete discioglierlo in acqua e farvi il gel di acido ialuronico vi spiega come farlo come lo dovete utilizzare le indicazioni rughe pelle matura pelle stanca di inelastica pelle secca borsi occhiaie insomma all'1 per cento in acqua per realizzare la il gel il gel quindi un grammo di sodio ialuronato 100 ml di acqua e avete 100 ml di gel di sodio ialuronato quindi di acido ialuronico a cui poi potete aggiungere o la vitamina e o il conservante per poter conservarlo appunto insomma ragazze è molto preciso il sito di flower tales è super preciso tantissimi tantissimi attivi tantissimi oli poi per esempio abbiamo gli oli essenziali ecco gli essenziali sono quelli che potete aggiungere a le vostre preparazioni per esempio quello di arancio quello di neroli quello di mandarino insomma potete utilizzarli veramente per tante cose e se aprite un olio essenziale ne apro uno a caso questo è il mix tonificante purificante vi spiega come utilizzarlo quando aggiungerlo per non rovinarlo perché l'olio essenziale va aggiunto a freddo quindi quando la vostra preparazione già fredda per poter essere utilizzato perché altrimenti si rovina calmante lenitivo purificante cicatrizzante vi spiega molto molto bene come vanno utilizzati vi lascio giù nell'info box il link di flower tales vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato visto semplicemente facendo vedere qualcosa che secondo me è importante conoscere se volete utilizzare oli puri burri puri perché tratta prevalentemente prodotti puri quindi senza conservanti senza coloranti senza pca senza per esempio vitamine per esempio le vitamine le vitamine sono molto importanti da aggiungere nelle vostre preparazioni la vitamina e il tocoferolo è un ottimo conservante la liposomi nanosomi vitamina e vitamina e sono essenziali per le creme anti age la niacinamide serve per schiarire la pelle le macchie da affinare i pori insomma fa un sacco di cose fantastiche quindi questo era quello che vi volevo fare vedere spero che vi sia risultato gradito questo video vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao